3, 2, 1, e ora sulle mani! Allora, bravo, tiro a subiremo sulle mani, dacci tutto il volume che hai, battiamo le mani a tempo, ma facciamo una foto che è con voi, facciamo... Ah, c'è il podio, va bene. Prendi anche la scritta, già è con voi. Ma, posso fare una foto con loro? Vai, autorizzate, autorizzate. Dovete avvicinarvi tutti qua, tutti gli arancioni, io mi metto qua sotto, ci state, venite anche qua davanti, anche gli altri, e non solo gli arancioni. Ben arrivati! Airdown, ciao a tutti! E a voi! Vieni con il cellulare e tornate. E facciamo l'aria, dai. Vieni con il cellulare. E' un'altra parte. Vieni con il cellulare! Vieni con il cellulare! Vieni con il cellulare. E' un catto film che è avviene. Presencia, il cellulare e lo saya, superビanno altra parte. Sopre. Grazie a tutti.